Qualcuno l'ha presa, è inutile girarci intorno, invece bisogna chiamare le cose col loro nome, altrimenti perdiamo solo tempo e quel tempo appartiene ad Anna Lu. Sono le 17 del 23 dicembre, Anna Lu esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. La ragazzina non è tipo da fughe, ce lo dicono quelli che la conoscono, ce lo dice la sua stessa esistenza. Aveva solo sei numeri nella rubrica del cellulare, mamma, papà, casa, casa dei nonni, confraternita, migliore amica. Come sappiamo il cellulare di Anna Lu è stato spento sette minuti dopo che uscita di casa non è stato più riacceso. Ora gli adolescenti che scappano di casa di solito resistono 24 ore col cellulare spento e allora se siamo fortunati li intercettiamo. Le risposte sono tutte in questi 300 metri. ci abitano altre famiglie ma nessuno ha visto o sentito nulla. Il rapitore ha studiato bene le abitudini del quartiere, sapeva come passare inosservato. La telecamera del distributore di benzina controlla l'unico accesso alla valle. Lei sa dirmi se è ancora funzionante? Sì signore, abbiamo acquisito i filmati delle ore della scomparsa. Voglio sapere chi è entrato e chi è uscito da Vescio. Ci concentreremo su quelli che hanno un passato violento e su quelli che hanno precedenti per reati sessuali. Ci pagherete uno straordinario? Insomma, dobbiamo lavorare a Natale, no? L'uomo che stiamo cercando non improvvisa, è astuto, scaltro. Quando questa storia sarà finita io e l'agente Borghi ce ne torneremo in città. Voi invece sarete costretti a rimanere qui e a guardare in faccia i genitori di Anna Lu ogni volta che li incontrerete per strada. Grazie. 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 Grazie.